Mi sentite adesso? Sì, bene. Perfetto. Allora, avevo chiesto alla signora Benedetti ma se qualcuno al suo posto si ricorda dove siamo arrivati. Praticamente eravamo arrivati che i due promessi sposi si erano visti togliendosi la maschera. Sì. E poi nel frattempo sono arrivati vari uomini e quindi da lì si è rimasti con la suspense. E quindi i due sono stati fatti entrare in una stanza. In una stanza, sì. Perfetto. Allora, partiamo. Io ho bisogno di molti uomini che sono, per esempio, il Battista. Chi è che vuol fare il Battista? Faccio io. Chi mi risponde è Oscar. Bene, Oscar. Oscar Battista. Poi, aspetta un momento. Giacom, chi è che fa Giacom? A Menek facciamo fare Menek. Mi sembra ovvio. Non so, per esempio, Morandi, vuole fare Giacom? Mi sentite? Non mi sento più. Sì, sì, ti sentiamo. Bene. Signor Morandi, lei c'è? Se me lo chiede, lo faccio. Bravissimo. E allora le faccio fare Giacom. Bene. Poi, l'alto, il tone. Chi è che fa il tone? Chi è che vuol fare il tone, per esempio? Fabio, vuol fare il tone? Che parla poco, sì. È giusto che deve parlare. Ok, ok. Va bene. Poi, Menek fa Menek. E qualcuno che faccia Filippi. Poi li abbiamo detti tutti gli uomini, vero? Ah, manca il Duca. Certo. Qualcuno che faccia Filippi, che potrebbe essere il signor Cornali, dai. Può fare Filippi, signor Cornali? Va bene. Bravo. E poi mi manca il Duca di Piazza Pontida. Chi è che vuol fare il Duca? Che parla poco, tra l'altro. Per esempio, facciamo fare il signor Piazza. Piazza ha voglia di fare il Duca di Piazza Pontida. Do è scomparso? Signor Piazza? Tiziano Piazza, ha voglia di fare il Duca? Assolutamente no. Ma va bene il senso. E il signor Nocerino, ha voglia di fare il Duca? Ma sì, ci provo. Grazie. Bravo, bravissimo. Duca. Ce l'abbiamo tutti, però? Bene, perché vado volentieri a cercare le signore, perché non mi dicono mai di noi, sono presenti sempre. Allora, signora... Allora, Arianna, le facciamo fare la Bettina. Vai, Arianna? Va benissimo. Brava. Brava. Poi, la signora Maraglino, ha voglia di fare l'Angelina? Va bene, faccio l'Angelina. La signora Angeretti, ha voglia di fare... Non la trovo più un Doela che... Ecco. Ha voglia di farmi, scusi, eh. Allora, l'Angelina... Ho bisogno della Rosa. La Rosa mi interessa molto. Quindi, signora Angeretti, vuol fare la Rosa? Volentieri, prof. Brava. Poi, mi manca, Angelina Rosa, la Marietta. La Marietta, che potrebbe farla benissimo. La signora Carmen? Va bene. Va bene? Marietta. Siamo tutti, no? Perfetto. Cena tredicesima. Parte Battista. Oh, sì, che... So che... Cosa che? Cosa che? So fuori strass. Cosa vuol dire? Fermi un secondo. Cosa vuol dire fuori strass? Sono fuori di grazie, della grazia di Dio. Bravo, bravo. Benissimo. Va bene. Cos'è il mai succedito? Succedito. 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 Eh, vuol sapere, lui. Rosa risponde. Me del vostro scelto so proprio negata. Perché il che riguarda il forester, c'è di sicurare che lei è una persona umurata. E il mia ira, caro Tone? Tone risponde. Tone? Fabio? Era col muto, un momento. Succedito. 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 Più per la K. Più per la K. A voi più per la K. Siura se al voi più. Allora, sono negato? Ne so negote vuol dire sono negato? Vuol dire non so niente. Ah, non so niente. E non voglio sapere niente. E non voglio sapere niente. E non voglio sapere niente. Faccio, sto zitto? Ah, faccio finta adesso? O faccio finta? No. No. O continuo a mandare giù? Sono stato zitto fino adesso? Sono stato zitto fino adesso? Ah, sono stato zitto. Sono stato zitto fino adesso? Ho continuato a mandare giù per accontentarvi. Per evitare delle discussioni. Ma adesso ve lo dico chiaro. Al voi più per la K. Non vi voglio più per K. Non lo voglio. Non lo voglio. Adesso ve la rileggo io. Intanto approfittiamo del fatto che mi sentite. Il tone risponde. Me so negote. E io le sai negote. Cioè io non so niente. Non voglio sapere niente. Ho fatto zitto fino adesso. Cioè sono stato zitto fino adesso. Ho seguitato a mandare. O per contentarvi. Per vigamia di discussioni. Quindi per non avere discussioni. Per accontentarvi. Ma adesso ve lo dico chiaro. Non clar. Ma chiaro. Ah, chiaro. Al voi più per la K. Non lo voglio più per K. Siura se. Al voi più. Vi faccio notare questo siura se. Che è simpaticissimo. perché il tone è talmente abituato a dire sì signora alla moglie che in questo caso dovrebbe dire ciura no al voi più. Cioè io no signora non lo voglio più. E invece dice sì signora non lo voglio più. Lo sento. È talmente sotto. È talmente sottato dalla moglie che le dice sì signora. Va bene. Andiamo avanti. Quattordicesima scena. Ma arriva il duca. Che dice? Oh oh. Stia attento come finì a parlare di persone onorate. Allora. Oh oh. Stia attento come fia a parlare di persone onorate. Cioè dice attenti a come parlate delle persone onorate. E Battista. In demica. E me ne. In duerme scelte. Duca. Alla vostra scelte le dette in che la stanza l'ha. Vosti scelte le dette in che la stanza l'ha. Baskini. Scondite in una stanza. Nascosto in una stanza. Indossate. Disgraciate. Aschur padre per carità. Bravo. Aschur padre per misericordia. Ma sarei negato del teo. Del buo sarei negato. Dem la pagheret. Disgraciada. Aiuto. Fermi. Tegni l'indrè. Tegni l'indrè. Vecchè. Assassi. Egnchè birbuna. Bene. Dom. Dom. Vecchè con me. Aca. Pong farasso i cunch. Cunch. Per causa to de... Per causa to... Filippi va via e saluta Bettina e... Filippi dice... Poarina. Eh, poarina. E Bettina? Po desperada. Po desperada. Passa via de che? Maledè che il momento che ho caffa di colpe e anche la cacchè. Oh, che disgrazia. Oh, che tribulere. Può rasceta. Può rolmene ut. Duca. Che in 48 mi va cassa a det. Sciura. In che 48 mi va cassa a det. Sciura. In quale 48 mi avete cacciato, signora? E la Rosa risponde... Pote, è sicura che lui le è un nome d'un ur? Ma dica, perché mi fa questa domanda che? Eh, perché mi fa questa domanda? Bravo. Ghelde ma domande un'altra volta. Può di essere sicura che lui le è un nome d'un ur? Dica, restese. Dato che sul duca di Piazza Puntida. Dato che sul duca di Piazza Puntida. O le la mette in due B? O le la mette in due B? C'è una di R. Allora. La me fa un torto. Mi fa un torto. Dica, vieni con me. Ma fa cosa, po'? Ma fa cos'è? C'è un accento sulla E. Ma fa cos'è, po'? So è una donna onurata. O fa l'at e go de rimedia. Ma come? Ma come? Come, come. Se che diche come, le belle finì la comedia. Allora, bravissimi. Torniamo indietro e traduciamo. Tredicesima. Eccoci qua. Sapete che è? No. Oh, siete qui? Siv. Ah, sì. Non sai io. Siv. Siete qua? Ok. Sono qui. Ah. Cosa c'è? C'è. Sono fuori dalla grazia di Dio. Sono fuori dagli stracci. Bene, ottimo. Cosa è mai successo? Sono arrivato a casa. Cerco il mio ragazzo. Ma non lo trovo in nessuna maniera, da nessuna parte. Ho domandato a tutti. Ho guardato dappertutto. E sono venuto a sapere che è stato insieme con un certo... È stato visto. È stato visto. È stato visto. È stato visto insieme ad un certo duca che conosce bene la signora Rosa. Chi è questo duca? Il duca di che cosa? E cosa c'entra con il mio ragazzo? Bravo. Io di vostro figlio non so proprio niente. Per quello che riguarda lo straniero, posso assicurarvi che è una persona onorata. Non è vero, caro Tony? Io non so niente e non voglio sapere niente. Sono stato zitto fino adesso e ho continuato a mandare giù per accontentarvi. Per via mia di discussion... Per evitare discussioni. Ma adesso ve lo dico chiaro. Non lo voglio più per la casa. Signora sì. Non lo voglio più. Perfetto. Avanti. Oh, state attenti a come parlate di persone onorate. Bravo. È là a casa mia. E dov'è il mio ragazzo? Mio figlio. Mio figlio. Io ve l'ho detto che state là. Vostro figlio è... Vostro figlio. Quella stanza là. In quella stanza. In quella stanza là. Scusi, posso sapere perché a volte c'è scetta e a volte c'è quella issa davanti. Allora, se la parola che viene prima finisce con la vocale, io posso usare scè, ma se finisce per consonante, proprio per evitare la cacofonia, usiamo iscè. Ok, bene, bene. Battista dice, come? Nascosto in una stanza. Dove sei, disgraziato? Ah, signor padre, per carità. Ah, signor padre, per misericordia. Io non sapevo niente del tutto. Davvero, sapevo niente. Come la pagherai, disgraziata? Aiuto, fermatelo. Tenetelo indietro. Prima, tenetelo. Mi raccomando. Mi raccomando. Ah, scusi, l'ho riletto in verbi. Sto re, mi raccomando. Tone. Calma, calma. Vieni qua, assassino. Assassino, bene. Venite qua, Birbona. Birbona, birbante. Birbante, birbona. Andiamo. Vieni via con me. A casa. Poi faremo tutti, faremo tutti, faremo i conti. Per causa tua. Filippi, dice? Poverina. Poverina, dice Filippi. Chi è Filippi? Secondo me è il signor Cornali, però. Sì, è. Signor Cornali. Sono disperata. Sto andando via. Ah, ecco. Sto andando via. Va bene. Sono disperata. Sono disperata. Menek? Passa via di qua. Maledetto. Passa via di qua. Maledetto quel momento che ho messo dentro il piede in questa casa qua. Bene, sì. Oh, che disgrazia. Oh, che tribolazione. Povera ragazza. Povero il mio nipote. Duca. In che 48 mi siete andati a cacciare, signora? Bravo. Posso essere sicura che lei è un uomo d'onore? Ma cosa dice? Perché mi fa questa domanda? Ma dico. Perché mi fa questa domanda? Glielo domando un'altra volta. Posso essere sicura che lui è un uomo d'onore? Non si dà del lei in bergamano. Che voi, perdono. Che voi siete un uomo d'onore? Direi di sì. Sì, dato che sono il Duca di Piazza Pontita. L'avevate messo in dubbio? Lo mettete in dubbio? Vuole metterlo in dubbio? Vuole metterlo in dubbio? Mi farebbe un torto. Mi farebbe cosa poco gradibile. Duca, venga con me. Dunque. Ah, certo. Duca. Don Duca. Duca. A fare che cosa? Sono una donna d'onore. Ho sbagliato e devo rimediare. Ma come? Come, come. Se glielo dico, se glielo dico, se le dico come, è bella terminata la commedia. Perfetto. Bravissimi. Bravissimi. Grazie. Grazie. Ce la stiamo mettendo tutta e ci stiamo divertendo un mondo. Se non male, sono proprio contenta. Infatti ci viene anche il modo di essere. Recitiamo anche. Ma lo sapete che le ultime due lezioni le teniamo come saggio, eh? Perché ci vorranno sentire un esperto che è il Silverio Signorelli, direttore del Giopì, un esperto di dialetto bergamasco, e il Duca di Piazza Pontina. Eh, madonna. Io sarò assente. Bisogna utilizzare, bisogna diventare bravi e fare il salto. Praticamente un esame finale, insomma. Un esame finale. Altrimenti il diploma di partecipazione ce lo scordiamo. L'importante è non metterci in costume, dai. Metteremo le maschere. Metteremo le maschere, davvero. Allora, tre uomini. Battista, Tone e Giacom. Battista era... Aspetta me. Ero io. Oscar. Benissimo. Tone, Era, Fabio, e continuano, e Giacom, e il signor Morandi. Sì. Dai. Perché sono andata. Adesso loro tre hanno deciso di allontanarsi, perché sennò Battista avrebbe dato uno schiaffone alla sua Angelina, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto i tre uomini vanno di là. Avanti Battista. Quando il se tratta de un uv, della reputazione della mia, fa mea, su mia bu, da fa pari, della gota. Un uom della mia sorta cosa dicherai di me, cosa dicherai del Battista. Vedete come questo Battista è molto attento a quello che pensa la gente. non tanto quello che pensa lui ma quello che pensano gli altri quindi non è proprio un uomo di specchiata moralità allora, avanti Giacomo bravo allora, la ripeto io so d'accordo bisogna dare un esempio bisogna fare sbassasol a ste donne i se superbe e fare imparare i uomini a castigare vado ecco donne e che i dighe perché mi sei rostecco allora e che i dighe perché mi sei rostecco e che i dighe perché mi sei rostecco rostecco avanti rostecco la me moer è la causa di tutto castiguela bravo fa yega dre fa yega dre e che l'altra marnifuna la gete dre e la osta moer l'è la terza la castiguerò bravo e la osta la sarastacia di corde anche la mia la pagherà anche la mia la pagherà avanti batista amici parliamo insieme un tanti e cerchiamo la soluzione con che le brote bestie che cosa con che le brote bestie che cosa hai da fare no con che le brote bestie che queste brutte bestie che cosa hai da fare cosa dobbiamo fare per la scetta le fasse beh cosa mi ho pensato e ho decidito prima di tutto a morte o il matrimone a morte quella parla le più le maritas la for la for sera su dun convent e il sale finita sarà da dette in quaternù e delle e delle la è più fa ma per i moher disem por o il vostro pare le dire disem per o il vostro pare disem per o il vostro pare veramente c'avresti mia n'amè non saprei tone poter essere poter essere alledette allure in due convent asciugala poi se allora ripeto io poter essere alledette cioè chiuderle dentro allure anche loro in due convent in un convento asciugala poi se cioè lavarsene le mani asciugarla così questo disem la erità alzare su castigo più per noter che per lui bisogna spend di belle palanche mandale in gir tirare insieme come si deve e per per ritirare chi staghe chi sarà sempre anche se rade su più libere che della nostra parli bene certo vedete come pensano questi uomini delle donne per ritirate che siano saranno sempre libere in un convento più libere che in casa nostra Giacomo parli mei di liberi stampati specialmente me e io che lascia mia labrea sul collo come il mio amico non gli lasciamo specialmente io e voi che non gli lasciamo la briglia sciolta sul collo come il mio amico Tone e Tone dice pota cosa goi di di ghi resu ghi resu empoder 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 est deniele un ca mi assenti ne ci ha dei dett di una stanza allora a fa le fa le va bene dopo lo dico io fautanti alla festa insomma come noter e può tornare a cale e det in manera che i gab e di nissu de parlare con nissu chiaro Chiaro? Sì, bravo, via, l'altro. Il fondo sarà vero, senza parlare con Gesù. Questa è una penitenza che gli fa crepando l'idea. Ecco, e Tony dice? Mei! Ma Battista è... Ma chi è l'uomo che vuole fare il caino? Chi sarà quell'uomo che vuole fare il caino? E poi, se si vede a saì l'ipareccia, i ve metzlo o nacca del diavolo, i met de mes, o il modo intreccio, vi fa desliberà e poi i vedis che sì un orso, un prepotente, un cagnato. C'è la dieresi, un orso, un prepotente, un cagnasso. Ma dice, guardate la mentalità di Battista che si preoccupa di quello che dicono gli altri, no? Se se ne accorgono i parenti, non è importante come saranno trattate le donne, è importante che i parenti non vengano a saperlo, perché se no ve le fanno liberare e dicono che siete un orso. Invece no, naturalmente. Giacomo? E quando chi mola, per forza o per amore, il vecià palamà e si più padrone dica n'averbo. Se faccio giusto, ti secco la merosa, la merosa. La merosa, bravo. Bisogna essere vestibili di ciappare una stanga di legno e soltare l'ave fino a che gli è morele. E' giù vascinato, perché sono livide. Troppe. E la sacra l'asella ci c'è il report. Vabbè, ma se dopo si rivolta André? Se si rivolta André, e dopo si si rivolta, no? Pensa che coraggio. Vederemo a Daz. Vederemo anche a Daz. Tone dice Aldige? Aldige perché lo provata. Eh. Vota certo in che caso lei? Se troeres indipetole. Fermi qua. Cosa vuol dire troas indipetole? Nel casino. Nel guai. Ma cosa sono le petole? Se lo sapete. Le pentole, no? No, 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 no. Pernacchie. Sono gli schizzi. Gli schizzi. Una volta la gente si lavava poco. Quindi quando si toglievano le mutande. Le mutande non erano pulitissime. Gli schizzi che rimangono sulle mutande sono i petole. Vuol dire essere esattamente nella merda. Certo. C'è la merda. Avanti. Giacomo. E poi se lo sapete che non è di uomo che ci ha per muovere abbastunate. Eh. Ma non è il segno che è mia fa che abbastanza gli armi. E fa pesa no. E la fa per dispetto. Le notte. I donne se ti coppet mia che mi radenzio del domestico. Porca miseria. Che battuta. Coppale? Coppale può no. Coppale può no. Cioè non ucciderle. Non arriviamo fin lì. Ma non è il segno. Ma non è il segno. Anche perché ultela, pirlela. No. Ultela, pirlela. Ultela, pirlela. Senza donne espulmi a stare al mondo. Senza donne espulmi a stare al mondo. Ultela, pirlela. Gira la volta là senza donne al mondo non si può stare. Ma mi dica sarebbe la mia una contentessa una consolazione e una forma sabbia obbediente rispettosa. Eh, Battista? Ma che l'era una volta la mia prima mo'era l'era un'angelo che sta che l'è il berlì in persona. E la mia la urtù alla sua maniera. bravo, bravo Fabio. E me uses bright do foco mispracere e tira insieme il bel negotto. Eh, va bene ma l'è sempre una ur sopportabile. Ma in del me caso de me im la faccia troppi stroccia. Troccia? Troccia? Sporca? Me l'hanno fatta sporca. Me piacere sdaga o una bella moída una olta una olta per tutte ma somia come fa. Mandela di so parecce. Eh, proprio per fangri in adres di sdaga. Eh. Mandela in campagna. Mm. Peggio che mai la me consuma gli entrati in tridenti. Ecco. e la parla con Vargù chi la sappia per sua vita. Eh. Ma se l'ascolta nessuno? Mm. Prove a portare via i vestiti. A mandala a mandala in bigarola. Bravo. Senza gioia e senza ormanecci. 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 Eh. Osamo proat le pesche mai. Eh. E mi scolta pensi. Come? Come? Godifla i se come lei. Godetevela così com'è. Eh. E pensi che me e pensi e ah no e pensi anche me anche me che gheses neguta dottor di fa. pensi anche me che gheses neguta dottor di fa. Bene. E me par anche a me che gheses più remedi. Me ser rassegnata a so portana. Ma questa che l'am facce le troppa grossa. Questa che l'am facce le tropp grossa. Ruinam una scelta de che l'ha fatta. Tirag un ca o l' l' l'ira che me ghe l'ere destinat per marit. malecume faela assa malecume faela assai ime intensiu geno mai parlat go mai facce capir gota pudiel mia das che 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 ghe demanda tut am mut ele la mel porta che che st di maschera di nascondù e fa incontrare e la las chi l' sede chi se parla la me fiola una colomba che in tota bergen genia mia notra innocenta compagna no no sta oltra ole castigala del bu ole mortificala ole faghe la pagacara per causa della siura rosa proprio tot per causa della osta moe tone se ghiresù l'aggiusterò se ghiresù l'aggiusterò siamo arrivati al fine se ghiresù l'aggiusterò dai torniamo indietro e traduciamo quando si tratta di onore della reputazione della mia famiglia non sono buono di far finta di niente un uomo della mia specie cosa diranno di me cosa diranno del batista ma tranquillo batista la mia non è colpa vostra la colpa è delle donne mortificale e tutto il mondo ti benedirà mortificatele mortificale e tutto il mondo signora mi dispiace ma questo mortificale ah no mortificale ha ragione ha ragione grazie che mi ha fatto riflettere eh ma mi posso sbagliare quindi fate bene se vedete delle cose va bene sono d'accordo bisogna dare un esempio bisogna bisogna far abbassare la testa queste donne che sono superbe e fa imparare gli uomini di castigarle castigarle signora mi permetta di tornare un attimo alla frase precedente il mio onore probabilmente è stato quello di dare del tu nelle prime frasi tradotte poi arrivare al mortificale quindi chiedo scusa va benissimo ho tradotto è colpa tua sta tranquillo battista quindi davo del tu mentre poi c'è il verbo al voi chiedo scusa di cosa dicano pure che siamo salvatici ah e che dicano pure quello che vogliono no e dicano pure che siamo rustici ah ecco ecco e dicano pure che siamo rustici la la mia moglie è la causa di tutto castigatela dagli indietro no no state bayega dre è come bayà è come l'abbaiare del cane no abbaiatele dietro ovviamente ah urlatele dietro e le dietro e quell'altra marmifuna che non mi ricordo cosa vuol dire furbastra sì ho trovato l'altra è quell'altra furbastra le tiene dietro la castiguerò non ti preoccupare e la e la vostra sarà stata d'accordo Giacomo anche la mia la pagherà amici amici amico amici amici cari parliamo in bergamasco non c'è differenza tra singolare e plurale un amico 10 amici un amico 10 amici bene amici cari parliamo assieme un attimo un momento e cerchiamo la soluzione con quelle brutte bestie che le brutte bestie con queste brutte bestie che cosa dobbiamo fare per per la ragazza le fasse è facile è facile ah fa la ragazza fa sì sì ho letto un'altra cosa è facile ho già pensato e ho deciso prima di tutto il matrimonio basta a monte a mut è andato a monte che si che parli più di sposarsi non parli più di sposarsi bisogna chiuderla la faccio la faccio chiudere la faccio chiudere in un convento e così è finita chiusa dentro in quattro mura e di là non verrà più fuori ma per mia moglie per le moglie plurale i moer ma per le mogli ditemi pure i vostri pareri il vostro parere il vostro parere veramente non saprei troppo io si potrebbe chiuderle tutte dentro un convento e finirla così e finirla e farla finita questo questo diciamo la verità sarebbe un castigo più per noi che per loro bisogna spendere dei bei soldi mandarle in giro tirate come si deve quindi agghindate agghindate sì e per come si deve per ritirate che per ritirate che siano saranno sempre anche chiuse più libere più libere che nella nostra casa parlo bene? parli meglio parlate meglio di un libro stampato specialmente io e voi che gli lasciamo che non gli lasciamo la briglia sul collo come il mio amico Tony eh sì cosa ti devo dire c'hai ragione potrei poterle tenere potremmo c'è una M davanti potremmo tenerle in casa tutte chiuse in una stanza farle uscire farle uscire un po' quando c'è la festa alla domenica alla domenica e poi insieme con noi con Noter e poi tornare a chiuderle a chiuderle dentro dentro che così non le vede nessuno non parlano con nessuno traduco io parola per parola sono Rossana buonasera Rossana anch'io scusate se sono stata assente l'ultima volta volevo sottolineare cioè far notare la concezione della donna all'epoca è che in una stanza fanno uscire solo la festa è bello si mangia ridico io questa frase parola per parola poi le ridò la parola a Rossana no tranquilla poca poca lo traduciamo lo lasciamo così abbiamo detto che ci sta che cosa devo dire avete ragione potremmo tenerle in casa chiuse la chiave in una stanza c'ha quindi con la chiave farle uscire un pochino alla festa alla domenica insieme con noi e poi tornare a chiuderle la chiave ovviamente dentro in maniera che non abbiano a vedere nessuno né parlare con nessuno chiaro? sì le donne chiuse in casa senza parlare con nessuno che questa è una penitenza che le fa crepare in tre giorni bene Tone meglio meglio sì ma ma chi è quell'uomo che vuole fare il caino e poi se volete sapere se vengono a saperlo se vengono a saperlo i parenti viene mettono su una casa del diavolo nel senso fanno un sacco di questioni certo mettono di mezzo sì mettono in mezzo il mondo intero ve le fanno liberare e poi vi dicono che siete un orso un prepotente un cagnaccio bene e quando hai lasciato andare per forza o per amore vi prendono la mano e non siete più padrone di dire nemmeno una parola bravo Tone io faccio proprio così con la mia rosa ho fatto ho fatto ho fatto così con la mia rosa con la mia rosa bisognerebbe essere buoni essere capaci essere capaci di prendere una stanga di legno e giù a tarellate si dice in italiano farellate fino a che diventano livide livide davvero e lasciare che la gente chiacchiari pure bene vabbè vabbè ma se dopo si ti si rivoltano di dietro perché perché potrebbe anche darsi eh ah io lo dico perché l'ho provato bravo vota certo in quel caso ci si troverebbe nella cagna va bene sì va bene sì nei pasticci va bene e poi si sa ce ne sono di uomini che prendono le moglie abbastanate ma nemmeno così riescono a far abbassare le arie fanno peggio ancora lo fanno per dispetto è inutile le donne se non le uccidi non c'è possibilità non c'è possibilità non c'è mezzo di dimenticarle no di addomesticarle sì 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 di addomesticarle ah la fissa ucciderle no oh dai ma no di sicuro anche perché e tira e molla tirala voltala e tira la voltala e non si può star mica senza le donne al mondo eh ma io dico sarebbe mica una grande gioia una consolazione avere una donna saggia obbedienta rispettosa eh io l'avevo una volta la mia prima moglie era un angelo questa qua è un diavolo per lì un diavolo in persona un diavolo in persona è la mia è fatta tutta a suo modo no vuole tutto la vuole tutta la sua maniera la sua maniera ok io grido sbraito do fuori come uno straccivendolo e tiro insieme un bel niente bene sì va bene ma è sempre una cosa sopportabile ma nel nel mio caso me l'ha fatta troppo grossa troppo sporca troppo sporca mi piacerebbe darle una una bella mossa una bella scossa una bella scossa una volta per tutte una bella ma non so sì ma non so come fare rimandatela ai tuoi parenti eh sì proprio per farmi ridere dietro da tutti allora mandala in campagna mandatela mandatela in campagna se posso fermi fermi qua se io volessi dire invece mandala in campagna come potrei fare mandila no mandela è voi mandatela in campagna ma voglio invece trasformarlo in mandala in campagna come fai? come si fa? c'è la precedente bravo mandela in campagna mandela in questo caso mandela quindi mandatela mandatela in campagna peggio che mai mi consumerebbe l'entrata in tre giorni fatela parlare con qualcuno che la sappia per so adere ma se ma non ascolta nessuno ma se non ascolta nessuno eh tone prova a portarle via provate proe ah provate a portarle via i vestiti e mandarla in vicarola che sarebbe vicarola? e mandarla via spoglia senza gioie senza ornamenti ho già provato e peggio che mai ascoltatemi fate così come? godetevela così come eh eh penso anch'io che non c'è altra maniera di fare bravo eh sembra anche a me ehm che non c'è che non c'è più rimedio non ci sia eh mi ero come tradurlo? mi ero rassegnato mi ero rassegnato a sopportarla ma questa che mi ha fatto è troppo grossa rovinarmi una ragazza di quella specie eh portarle portarle in casa portarle portarle in casa il moroso ehm è vero che io l'avevo destinato l'avevo destinato per marito ma lei ma lei come faceva a sapere la mia intenzione mia intenzione ho mai parlato io ho mai fatto capire qualcosa può essere non poteva essere più di non poteva essere che che dovessi pentirmi non poteva essere che avessi da mandare che avessi da mandare tutto a monte e lei me me la porta me lo porta qui in casa vestito da maschera di nascosto e li fa incontrare e fa sì che si vedano che si parlino la mia figliola una colomba che in tutta Bergamo non ce n'era un'altra compagna innocente no no stavolta voglio castigarla davvero voglio mortificarla voglio fargliela pagare caro bravo tutto per tutto per causa della signora Rosa proprio tutto per causa di vostra moglie eh sì avete ragione aggiusterò la cosa l'aggiusterò bravi 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 signori bravi bravissimi bene ci vediamo eh la prossima settimana e vedremo come andrà a finire comunque stasera è andata bene siete stati bravi quindi bravissimi sono molto contenta di voi molto bravi grazie 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 buonasera arrivederci buonasera 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 a tutti